A Cape Canavera in Florida continua il conto alla rovescia per il lancio del Discovery. Se tutto andrà liscio la navetta spaziale partirà alle 15 e 4 minuti di domani. Sette gli uomini dell'equipaggio, tra di loro anche un senatore, Jack Garn, presidente della sottocommissione che controlla i finanziamenti alla NASA. L'uomo politico vuole rendersi conto di persona come vengano spesi i soldi dei contribuenti.